Ciao, noi siamo degli allievi della scuola La Grananza di Roma, il più piccolo ha 8 anni e il più grande ne ha 25. Nella nostra scuola studiamo diversi stili di danza e alcuni di noi hanno un'altra recitazione. Siamo tutti di Roma e studiamo più per le nostre nostre sogni. Noi siamo le coreografe, Elisa e Michela. Abbiamo cercato in questo testo di fare un mix di tutti gli stili che si studiano a scuola. E quello che cerchiamo di trasmettere proprio con questo testo è non solo la disciplina e l'arte che insegniamo ai nostri ragazzi, ma anche le emozioni e tutti i rapporti umani. All your dreams, don't ever let it go. Be yourself and let the world take knowledge. You'll find strength When people bring you down They will see If you will hold it Hold it If you will hold it Grazie a tutti Grazie a tutti